Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo decreto chiamato liquidità in aiuto alle imprese in difficoltà. 400 miliardi previsti che si sommano ai 350 già annunciati nel Cura Italia. Per le piccole e medie imprese garanzia del 90% sui prestiti fino a 5 milioni. Aziende e partite IVA non dovranno pagare tasse ad aprile e maggio. Non ricordo un intervento così poderoso nella storia italiana il commento del Premier Conte. Prosegue lentamente la frenata dei malati di coronavirus. Il numero dei nuovi positivi è sceso sotto quota 2.000. Era accaduto una sola volta negli ultimi 26 giorni. Tornano a respirare anche le terapie intensive. Purtroppo cresce invece il dato dei decessi. Ieri 636 per un totale in Italia di 16.523. Vertice oggi in videoconferenza dell'Eurogruppo sulle misure per fronteggiare la crisi economica. Si cercano a mediazione tra i paesi ma restano ancora forti le divergenze con le posizioni ben definite. I paesi più rigidi a cominciare dalla Germania insistono sul ricorso al meccanismo europeo di stabilità. Sebbene in versione light gli Eurobond, titoli di debito a garanzia europea, arrestano la strada preferita da Francia, Spagna e Italia. Regno Unito sotto shock dopo che il premier Boris Johnson è stato trasferito ieri sera in terapia intensiva per un peggioramento delle sue condizioni in seguito al ricovero per coronavirus. La supplenza Downing Street è stata affidata al ministro degli esteri Dominic Raab. Negli Stati Uniti superate le 10.000 vittime con quasi 400.000 persone contagiate. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Telegiornale della Sette. Dunque ieri sera il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto liquidità che prevede prestiti per le imprese con la garanzia dello Stato. Ma c'è anche uno slittamento delle scadenze fiscali contributive e un rafforzamento della Golden Power. Un Consiglio dei Ministri che era iniziato in mattinata, poi sospeso, nel quale non sono mancate le tensioni. Vediamo. Un intervento di una dimensione inedita. 750 miliardi in totale per le imprese. 200 di garanzie sui prestiti e 200 per l'export, che si sommano ai 350 già previsti, con l'arrivo di una copertura fino al 100% per prestiti fino a 800.000 euro. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export attraverso prestiti. Inoltre il Premier annuncia che prima di Pasqua ci sarà un altro decreto che definisce corposo e che conterrà strumenti di protezione sociale, sostegno alle famiglie e ai lavoratori, soprattutto quelli in difficoltà. Poi un nuovo appello a continuare a rispettare le norme relative al distanziamento sociale, a festeggiare la Pasqua in casa. Per quanto riguarda l'attesa fase 2, il Presidente del Consiglio spiega non siamo ancora in condizione di anticipare nulla. Ci riserviamo di fare con il Comitato Tecnico Scientifico qualsiasi valutazione. Saremmo felici se potessimo adottare un allentamento delle misure, ma fissare una data oggi sarebbe privo di senso. Quando tutto sarà finito ci sarà una nuova primavera. Per ciò che riguarda i rapporti con l'Europa, oggi si riunirà l'Eurogruppo, Conte conferma il no dell'Italia al Messa, al Fondo Salva Stati e il sì agli Eurobond, una posizione sulla quale io e il Ministro Gualtieri puntualizza siamo pienamente d'accordo. Il titolare di Via 20 Settembre poi spiega che è al lavoro una task force integrata con il sistema bancario e con la SACE per rendere immediatamente operativo il sistema di garanzia per i prestiti alle imprese. Contiamo che in pochi giorni sia già possibile soffrire di questo strumento di sostegno alla liquidità. Ieri è stato varato anche il decreto scuola per stabilire in che modo si concluderà l'anno scolastico in base allo scenario che si profilerà nelle prossime settimane, in particolare se si tornerà in classe entro il 18 maggio o meno. Con un occhio anche a settembre, soprattutto rispetto alle due possibilità, il ritorno in classe o la ripresa della didattica a distanza. Ci saranno comunque esami seri e scrutini finali rigorosi, anche se nessun studente verrà bocciato. Il Ministero chiarisce per decreto ed assicura nessun sai politico, ma un anno scolastico eccezionale che si chiude in modo eccezionale. Tutti promossi ma con voti veri, specifica la Ministra Azzolina. La missione all'esame di maturità sarà garantita. Per le sorti dell'anno scolastico 2019-2020, la data spartiacque è quella del 18 maggio. Se docenti e studenti rientreranno in classe entro quel giorno, avranno a disposizione alcune settimane per il recupero della didattica e per gli scrutini finali. Per gli esami di maturità, come già annunciato dalla Ministra nei giorni scorsi, la commissione sarà composta da tutti i membri interni, tranne il Presidente. Con il rientro in aula entro il 18 maggio, è prevista la prova scritta di italiano per tutti i quasi 500.000 maturandi decisa dal MIUR, mentre il secondo scritto sarà preparato dalle singole commissioni d'esame. Per gli studenti di terza media è prevista una versione dell'esame facilitata e semplificata. Nel caso in cui sia impossibile il rientro in aula entro il 18 maggio, scatterà la soluzione 2. La maturità sarà svolta senza prove scritte, ma con un unico esame orale, anche per via telematica, un maxi-colloquio interdisciplinare. In questo caso, per la terza media, non ci saranno prove finali, ma una tesina del candidato da consegnare prima della fine dell'anno, e sarà decisiva la valutazione dei professori. Per gli studenti meno brillanti, l'integrazione e il recupero delle materie avverrà all'inizio e comunque nel corso dell'anno prossimo. Ci tengo a sottolineare che non si possa assolutamente parlare di sei politico, ma la valutazione ci serve a far sì che si guardi all'identità personale dello studente, alla crescita, alla maturazione di uno studente che in questo caso guarda ad un periodo complessivo che è di ben 5 anni. Tra le novità sancite dal decreto, l'insegnamento a distanza diventa obbligatorio, anche se l'Istat rende noto che più di un terzo delle famiglie italiane non ha pc o tablet in casa. Le notizie confortanti arrivano dal fronte dei dati che confermano l'efficacia delle misure di contenimento che sono state predisposte dal governo, rispetto alle quali gli esperti ricordano che è importante continuare a seguire. Naturalmente destano preoccupazione i prossimi giorni di Pasqua che potrebbero essere uno spartiacque nell'andamento dell'epidemia. Oggi è previsto un incontro in videoconferenza tra il Premier Conte e il Comitato Tecnico Scientifico anche per capire in che modo andare avanti. Un'altra giornata di decrescita, un altro piccolo passo in avanti, ma per capire se si è innescata la discesa della curva epidemica, la linea di tendenza si deve consolidare. Nella consueta conferenza stampa alla protezione civile e gli esperti parlano di conferma del trend frutto delle rigide misure di contenimento portate avanti dal Paese. Nelle ultime 24 ore scendono i contagi. I nuovi positivi sono 1.941, circa 1.000 meno di domenica, con il 65% in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. La diminuzione concede agli ospedali di respirare. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, diminuiscono i pazienti. In terapia intensiva, 79 posti si sono liberati. Dati comunque allarmanti in numero assoluto, sottolinea Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli, ma anche confortanti. In una settimana, dal 30 marzo al 6 aprile, calcola lo specialista, i nuovi ricoveri sono stati il 90% in meno. Ciò che non è diminuito è il numero dei decessi. Dopo due giorni di discesa, ieri una risalita. Le vittime accertate sono state 636. Il giorno prima erano 525, con il doloroso conto totale arrivato ad oltre 16.500. La linea di tendenza, dicevamo, si deve consolidare nei prossimi giorni, ma il tema del rilascio graduale del lockdown è già diventato cruciale, con migliaia di aziende pronte a ripartire dopo diverse settimane di blocco. In ordine sparso e a macchia di leopardo sono già tantissime le aziende che hanno presentato domanda ai prefetti per poter ripartire in deroga. Il governo comunque sta lavorando ad una fase 2 che preveda un piano organico di riavvio graduale delle attività. Un piano che deve essere molto cauto, si affannano a ripetere gli scienziati e si procederà per tappe. Oggi è in programma un incontro in teleconferenza tra il Premier Conte, alcuni ministri e il Comitato Tecnico Scientifico proprio per valutare modalità e date del passaggio. L'ultimo decreto firmato da Conte scade il 13 aprile. dunque i contenuti del nuovo provvedimento saranno decisi alla fine della settimana tenendo sempre ben presente l'andamento della curva epidemica. I dati migliorano anche in Lombardia dove a destare preoccupazione adesso però è la città di Milano dove sono in aumento i decessi. E a proposito di decessi, quelli nelle residenze per anziani sono in primo piano proprio in Lombardia. uno degli argomenti sui quali si è consumato ieri un scontro a distanza tra i medici di medicina generale e l'assessore Gallera. In quei momenti quello che abbiamo fatto l'obiettivo era liberare posti. Non abbiamo mai né imposto né chiesto all'RSA di mettere i pazienti Covid positive insieme agli altri anziani. E chi oggi dice questo fa un atto ignobile, fa un atto vergognoso. Così l'assessore Gallera ha risposto alla lettera inviata dalla Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia alla Regione. Un atto d'accusa sulla gestione dell'emergenza non tanto nella prima fase di cui viene riconosciuto l'ottimo intervento per la creazione delle terapie intensive ma per l'assenza di strategie nella gestione del territorio. Una gestione confusa per l'RSA scrivono i medici lombardi che ha provocato la diffusione del contagio e la morte di centinaia di anziani. Nella sola provincia di Bergamo 600 morti su 6.000 ospiti in un mese. Dei 70 decessi avvenuti a marzo nel Pio Albergo Trivuls storica residenza per anziani di Milano Gallera spiega che l'anno scorso erano mancate 52 persone 18 i casi positivi secondo i dati forniti dalla Direzione Sanitaria della Struttura che vuole ridimensionare quella strage nascosta di anziani pazienti raccontata dai giornali. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo mentre il Ministero della Salute invia gli ispettori. Abbiamo iniziato a fare i tamponi ai medici di base che lo richiedono ha spiegato ancora Gallera mentre prosegue la distribuzione di 3.300.000 mascherine forse già domani saranno disponibili gratuitamente nelle farmacie. Sul fronte dell'emergenza contagio si registra ancora un costante anche se lento miglioramento in Regione soprattutto nelle province più colpite quelle di Brescia e Bergamo ieri dall'ospedale Papa Giovanni XXIII sono stati trasferiti i primi 4 pazienti nella struttura sanitaria allestita dagli Alpini nei padiglioni della Fiera a supporto a un team composto da medici di emergency e del contingente russo. Diminiscono i casi positivi solo 26 nuovi malati in terapia intensiva un centinaio in meno i ricoverati oltre 400 i guariti. Ancora troppo stabile il numero dei decessi quasi 300 nelle ultime 24 ore che portano le vittime a 9.202 E oggi torna a riunirsi l'Eurogruppo in videoconferenza per decidere sugli strumenti per affrontare la crisi che è stata scatenata crisi economica dall'emergenza del coronavirus le posizioni sono ancora molto distanti e bisognerà trovare comunque una misura intermedia vediamo In teleconferenza prima l'Eurogruppo l'incontro dei ministri dell'economia e delle finanze e dei paesi che hanno l'Euro come moneta poi la riunione istituzionale dell'Ecofin con i ministri competenti dell'Unione Europea la sede per arrivare a una decisione sul piano di aiuti economici per l'emergenza coronavirus decisione che sembra ancora lontana perché lontane nonostante qualche progresso sono ancora le posizioni dei due schieramenti quello dei paesi del nord Europa in testa Germania e Olanda che non vogliono nuovi strumenti finanziari che impegnino tutti i governi per dare risposte alla crisi economica e puntano sull'utilizzo del MES il meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati che fu impegnato in Grecia per la crisi del debito pubblico ellenico e il fronte meriterraneo guidato da Italia e Francia che invece chiedono davanti a una situazione straordinaria che riguarda tutta l'UE iniziative nuove come gli euro bond emissioni garantite da tutti gli stati membri per dare risorse ad aziende e famiglie alimentare la domanda interna scongiurare la recessione probabile che si arrivi a un rinvio a dopo Pasqua tempo che secondo i sostenitori di titoli europei potrebbe far maturare più miti consigli sul versante rigorista visti l'espansione della pandemia e il dibattito interno che si è aperto anche in Germania e in Olanda per arrivare a una mediazione sul tavolo resta l'ipotesi di un MES alleggerito cioè con condizioni meno onerose per chi vi ricorre indigeribile per Francia Italia e gli altri paesi del sud Europa che potrebbe arrivare a stanziare 240 miliardi che si aggiungerebbero ai 100 miliardi di Shure destinati agli ammortizzatori sociali e al piano della Banca Europea degli investimenti 200 miliardi per le imprese strumenti che tutti insieme coprirebbero circa un terzo della somma necessaria per dare una risposta adeguata secondo la Commissione Europea intanto le prime risposte concrete arrivano dalla BCE con il suo piano straordinario di acquisto dei titoli per l'emergenza Covid-19 ne ha rastrellati nei primi cinque giorni 30 miliardi e 200 milioni con effetti immediati sullo spread il differenziale tra rendimento dei titoli tedeschi e italiani sceso a 191 punti e proprio per far fronte alle difficoltà economiche l'Austria dopo tre settimane di lockdown ha deciso di riaprire seppur in maniera graduale mentre altri paesi saranno costritti ad adottare misure restrittive come la Svezia e l'Olanda che finora non lo hanno ancora fatto intanto in Gran Bretagna c'è la prensione per le condizioni di salute di Boris Johnson la notizia l'ha data il portavoce di Downing Street poco dopo le 21 di ieri ora italiana il premier Boris Johnson 55 anni è stato trasferito in terapia intensiva risultato positivo al coronavirus dieci giorni fa il primo ministro britannico era stato portato al St. Thomas Hospital di Londra perché la febbre non passava ieri pomeriggio Johnson aveva tweetato sto bene mi tengo in contatto con la mia squadra ma poi la situazione è precipitata a prendere le sue veci ora il ministro degli esteri Dominic Raab messaggi di sconcerto e solidarietà sono arrivati da tutto lo spettro politico britannico e non solo anche il presidente francese Macron ha espresso pieno sostegno a Johnson intanto la Gran Bretagna ha registrato ieri un'impennata dei contagi 51.000 e oltre 5.000 morti ma il paese più colpito in Europa resta la Spagna più di 600 decessi in 24 ore un dato comunque in leggero calo i ricoveri in terapia intensiva non aumentano più ai ritmi dei giorni scorsi in calo anche i numeri in Germania anche se la cancelliera Merkel ribadisce che non è ancora il tempo di allentare le misure di contenimento in Francia invece ieri si sono registrati altri 833 morti tra ospedali e case di cura il più alto numero di vittime in un giorno dall'inizio dell'epidemia non abbiamo raggiunto il picco avvertito il ministro della salute mentre per il ministro francese dell'economia Lemaire il paese dovrà scontare la recessione più pesante del 1945 tra chi invece guarda già la ripartenza pur sempre con il timore di una possibile seconda ondata ci sono gli austriaci il governo ha ora annunciato di voler ammorbidire le misure dopo Pasqua riapriranno i parchi pubblici e a tappe successive i negozi prima i più piccoli da maggio tutti e la situazione è sempre più difficile anche negli Stati Uniti dove purtroppo i decessi hanno superato quota 10.000 di cui la metà nello stato di New York New York che pensa comunque ad un prolungamento dello stato di lockdown visto che si tratta ormai questo è stato appurato dell'epicentro dell'epidemia almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti L'aveva detto lo stesso Donald Trump che questa per l'America sarebbe stata una settimana dura ed è cominciata nel peggiore dei modi con un balzo in avanti del numero di vittime che adesso sfiorano le 11.000 e con oltre 30.000 nuovi casi scoperti nelle ultime ore che portano il totale ormai vicino ai 400.000 ma Donald Trump nella consueta conferenza stampa quotidiana ribadisce che sì il momento è difficile ma che lui vede una incredibile luce in fondo al tunnel riapriremo prima di quanto la gente non pensi dice il presidente Wall Street evidentemente ci crede perché mette a segno una seduta di spettacolare ripresa in attesa anche di nuove misure economiche da parte della Casa Bianca stiamo molto seriamente valutando un secondo round di helicopter money dice Trump cioè di pagamenti diretti alle singole famiglie americane intanto la situazione sul campo resta difficilissima soprattutto a New York tanto che le autorità nel caso la capienza degli obitori degli ospedali diventi insufficiente stanno pensando di realizzare fosse comuni temporanee ma con le vittime sempre chiaramente identificabili nell'area del cimitero in attesa di dare a tutti a crisi superata normale sepoltura un politico locale aveva persino suggerito di usare i parchi pubblici cominciano finalmente ad arrivare agli stati le forniture mediche necessarie anche se intorno alla Casa Bianca ai ritardi nell'intervento infuriano ancora le polemiche Donald Trump intanto minaccia conseguenze all'India che ha bloccato le esportazioni dell'idroclorochina il medicinale che secondo il presidente potrebbe servire a bloccare il virus si terranno regolarmente le primarie nello stato di Wisconsin il governatore per ovvi motivi avrebbe voluto posticiparle ma la Corte Suprema dello Stato ha ordinato di procedere e mentre il Giappone sta per dichiarare ufficialmente lo stato di emergenza in alcune parti del paese inclusa la capitale Tokyo rendendo possibile adesso misure di contenimento più stringenti per la Cina una giornata memorabile per la prima volta nel paese non si registra nessuna vittima da coronavirus e per lo sport c'è l'accordo tra le società di calcio italiane per il taglio degli stipendi dei giocatori ma il sindacato è nettamente contrario quella che sembrava una schiarita sul tema più divisivo del calcio italiano ai tempi del coronavirus è durata pochissimo l'asso calciatori ha respinto al mittente l'accordo uscito dall'assemblea della Lega Serie A una bozza che sempre in attesa che si capisca se e quando si tornerà in campo prevede due distinte soluzioni per il taglio e gli ingaggi sarebbe di un terzo dell'ordo annuo se la stagione verrà considerata chiusa nonostante alcuni recuperi ancora da fissare con la giornata numero 26 quella di Juventus Inter in caso di ripresa e conclusione regolare del campionato la riduzione ammonterebbe invece ad un sesto viene comunque data alle società la facoltà di procedere separatamente a trattative con i componenti delle varie rose di A ed è questo l'unico punto considerato da Damiano Tommasi come condivisibile per il resto il sindacato ha parlato ieri di una proposta vergognosa ed irricevibile con cui sarebbe scaricata sui giocatori ogni colpa della crisi per l'emergenza di questi mesi si è mosso il governo nella persona del ministro Spadafora anche per i lavoratori dell'universo sportivo da questo pomeriggio alle ore 14 potranno chiedere un bonus di 600 euro collegandosi con il sito di Salute e Sport fuori dall'Italia ancora ben poco di sicuro ed ieri la ripresa degli allenamenti al campo del Bayern Monaco con precisione tutta tedesca sono state fissate regole rigorose ci si muove in gruppi senza abbracciarsi né darsi la mano distanze di sicurezza da rispettare scrupolosamente e di vieta assoluto di contrasti e a fine seduta niente doccia nello spogliatoio ma tutti a casa ed è tutto prossima edizione del telegiornale alle 13.30 adesso le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Alessandra Sardoni vi auguro una buona giornata e poi a seguire